Alice Mizzau, grande campionessa, grande orgoglio del Friuli, è tornata qui a casa a trovare i genitori, ogni tanto capita di tornare dalle proprie parti e noi la prendiamo al volo per salutarla e per sapere un pochino come va la sua carriera ma anche per voi amici a casa approfittare dell'occasione magari per conoscerla un pochino più da vicino intanto come va Alice? Tutto bene? Tutto bene, questi tre giorni di pausa che mi sono stati concessi dopo tante domeniche a nuotare, sono venuta a casa, ho appena finito i campionati italiani dove ho conquistato un oro nei 100 stile e un argento nei 200, quindi soddisfatta delle gare, volevo fare un po' meno come tempi però insomma ho tutta la stagione estiva davanti quindi sono tranquilla così Un atleta come te si confronta con il tempo o con le avversarie? Tutti e due, dovevo confrontarmi col tempo in questi campionati in quanto avevo già ottenuto il tempo limite per i mondiali di Barcellona quindi ero anche più tranquilla da quel punto di vista, però la gara con la Pellegrini mi ha portato a non pensare al tempo ma all'avversario Com'è andata per quelli che a casa non lo sanno? Sono arrivata a seconda purtroppo, però insomma fino a poco più di metà gara ci ho provato a darle fastidio, questo era l'obiettivo Poi dopo lei chiaramente ha preso il largo, stiamo parlando di Federica Pellegrini, a proposito il tuo rapporto con lei com'è? Abbiamo un buon rapporto, fuori dall'acqua siamo amiche, poi le quattro ragazze della staffetta di Londra abbiamo fatto anche le vacanze insieme quindi siamo molto amiche, in acqua no, poi adesso che ha capito che sto cercando di intrufolarmi nella sua gara forse lo saremo ancora un po' meno però insomma a me va bene così Prova come tutte le grandi campionesse a sognare il territorio, a proposito dove ti alleni tu? Noi che siamo diciamo i così, coloro i quali si cibano di gazzetta, leggiamo che tutti i grandi campioni del nuoto sono o a Roma o a Verona oppure all'estero come è capitato anche a Federica Pellegrini, tu invece? Beh si può dire che sono all'estero perché sono a San Marino che fa Stato, però è Italia Lì sto benissimo perché sono da sola con il mio allenatore, che tra l'altro è il primo allenatore di Federica però anzi da un lato ancora meglio forse di molte piscine italiane perché ho la corsia da 50 metri riservata per me ho la mia palestra quindi sto benissimo lì Una campionessa come te quante ore si allena al giorno? Perché insomma credo che in questo caso stiamo parlando di una vera professione cioè per te è veramente totalizzante quello che fai Sì sì ormai diventa una professione a tutti gli effetti faccio due ore e mezza al mattino e due e mezza al pomeriggio di acqua e la sera tre volte a settimana due ore di palestra e anche la domenica poi due ore ogni domenica Il fidanzato riesce a vederlo ogni tanto? Sì il fidanzato nei ritagli di tempo c'è poi insomma lui comunque è un ex notatore quindi capisce la mia situazione anzi mi appoggia perfettamente poi viviamo insieme quindi mi tocca anche vederlo anche quando non voglio Quindi non c'è problema recuperate Ascolta si vive di nuoto? Questa magari è la domanda classica di chi a casa ti sta guardando ma un atleta come te è giovane, bravissima, futuribile, già con un grande presente riesce a vivere di nuoto? Beh c'è la possibilità di entrare nei corpi dello Stato infatti io sono ad esempio nelle fiamme gialle, guarda di finanza e allora lì sì è possibile anzi poi lì comunque sono molto veniamo molto aiutati e facilitati per il resto invece è difficile molto difficile soprattutto per un futuro ho finito il nuoto alla fine il nuoto non è che può durare più dei 25 anni per una donna solo una Federica Pellegrini può vivere anche senza entrare in un corpo armato un corpo militare certo come nasce in te questa passione? perché insomma è chiaro che uno gioca a pallavolo perché lo sport principale per una ragazza è la pallavolo oppure io gioco a pallacanestro papà era appassionato di pallacanestro a calcio giochiamo un po' tutti ma non è da tutti però diventare un nuotatore o una nuotatrice come nasce in te questa passione? io ho iniziato quando avevo due anni seguendo le orme di mia sorella due anni? due anni sono 18 anni che sto in piscina però mi sembrano sieno seri e ho iniziato perché per evitare che avessi anch'io paura dell'acqua come mia sorella e poi da lì ho sempre continuato perché comunque i risultati seppure poco importanti venivano avevo provato la danza ma non ero molto portata la mia grazia quindi poi ho scoperto che forse il nuoto era meglio più mi si addiceva di più certo il rapporto con la tua famiglia come è? sono qua papà e mamma molto in disparte perché insomma stanno facendo una passeggiata qui intorno mentre tu ci rilasci questa intervista il rapporto con loro e con tua sorella come? tua sorella poi ricordiamolo me lo dicevi tu prima è un maresciallo dei carabinieri quindi ci mettiamo sugli attenti sì esatto in famiglia papà e mamma ormai devono stare attenti perché si sgarrano guai siamo molto uniti poi soprattutto adesso che sono andata via di casa dopo ormai sono tre anni sento molto la mancanza anche di mia sorella sono una che sta molto sulle sue molto solitaria però ora sento molto la mancanza comunque vengono a trovarmi sempre quindi no per questo non posso lamentarmi sono molto presenti San Marino poi è bellissima chi non c'è stato consigliamo di andare a fare un giro perché è veramente un posto speciale qual è il sogno nel cassetto di Alice Mizzau? il sogno nel cassetto forse non lo so neanche io perché una volta era Londra 2012 adesso è passata e non me ne sono neanche accorta quasi quindi fare il massimo che posso fare che non lo so nemmeno io non lo sa nessuno quindi spero di raggiungere il massimo il tuo allenatore cosa dice? qual è il tuo limite? lui ti spronerà chiaramente a cercare sempre di ritoccare il tempo ma lui ti dà un obiettivo? lui punta molto in alto sicuramente a Rio 2016 poi là non si sa a cosa si punta intanto è un pezzettino dell'obiettivo è questo il resto vediamo qui da noi anche grazie a Valentina Bearzi nostra collega amica che riporta sempre fedelmente con puntualità argomenti legati alla tua carriera insomma ti seguiamo tutti tu però sei una friulana che sta cercando e trovando fortuna fuori casa il tuo rapporto con la nostra terra qual è? spettacolare io amo moltissimo la mia terra il friuli ma soprattutto il mio paese Beano sono legatissima ma in tutto il mondo conoscono il friuli Beano il frigo tutto tutto si sa del friuli perché poi in un futuro col fatto che sono andata via sono andata fuori presto vorrei ritornare qui perché questa è casa mia e i miei figli dovranno parlare friulano questo è bello sentirtelo dire ascolta il tuo rapporto visto che sei donna di casa ce l'hai detto prima il tuo rapporto con i fornelli? non c'è rapporto cucina il tuo fidanzato? no una pasta la so fare il resto porta la mamma congelato e io scongelo col microonde insomma è già un passo avanti parlavi di figli quindi nel tuo futuro è previsto il ruolo di mamma una campionessa che si applica a 10 ore al giorno per lo sport è difficile che guardi così in là ma nel tuo futuro? ah sicuramente voglio essere una mamma è anche una mamma abbastanza giovane poi comunque la carriera da nuotatore soprattutto una nuotatrice dura massimo massimo fino ai 28 anni poi comunque una volta che mi renderò conto di aver raggiunto il massimo l'apice della mia carriera poi da lì non continuerò più tanto insomma tu sei una di quelle che dice un giorno che vedrò di non essere più al top smetto e faccio altro oppure ti piacerebbe comunque trasmettere questa passione che tu magari a nuove leve, a nuove atletti a nuove Alice Mizzau? se ce ne sono in Friuli con molto piacere poi adesso vedremo cosa fare rimanere in questo mondo mi piacerebbe però non come allenatrice di una squadra non mi ci vedo no non è semplice non è semplice 100 e 200 è la tua specialità ricordiamolo altro non fai non è che come Federica ti inventi qualcos'altro no faccio quello e lo faccio bene quindi in Italia sopra di te è solo lei? sì nei 200 nei 100 adesso lei non li ha fatti però siamo molto molto più vicini velocità magari tipo 50 non ti è mai passato per la testa quelle vasche più corte possibile? no no perché le mezze misure così pochine non mi piacciono non fanno per me ma poi comunque le mie caratteristiche non sono da velocista pura il tuo immediato futuro cosa c'è prossime gare, prossimi impegni adesso hai preso tre giorni di riposo mi verrebbe da dire beata a te dopo tanti impegni ti sembrerà quasi di non crederci poi ci torniamo in acqua e successivamente il prossimo step qual è? tra un mese e mezzo a giugno ho il 7 Colli a Roma che è un'altra tappa per la qualificazione mondiale e poi ho i mondiali di Barcellona i giochi del Mediterraneo non li faccio perché ho la maturità quindi quelli li facciamo un'altra volta? sì esatto, tra quattro anni sono quindi tu guardi già a quattro anni sì, perché così conquisto tutte le gare che ci sono noi te lo auguriamo di cuore ancora un paio di curiosità devi darmi il tempo di farti queste domande ti svegli alla mattina, raccontaci la tua giornata tipo perché insomma tu hai vent'anni, sei una ragazza come noi di un paese come noi sei un'espressione del Friuli normale e intervistando ti me ne accorgo sei una ragazza veramente acqua e sapone e quindi è anche bello parlare con te la tua giornata tipo magari le tue colleghe ventenni chissà cosa fanno tu cosa fai? Alice Mizzau cosa fa? sveglia a 7.20 e il più veloce possibile perché adesso non sono più abituata come quando andavo a scuola che mi svegliavo prima alle 8 in piscina e 8.30 entro in acqua e nuoto fino a... quindi mezz'ora di riscaldamento e stretching si di stretching fuori dall'acqua senza il melenatore perché poi la piscina apre alle 10 quindi sono in piscina da sola siamo io e lui e lo faccio da sola lo stretching poi nuoto due ore, due ore e mezza vado a casa 11 e mezza no 11.45 mangio perché rientro in acqua alle 2 e mezza 2 e mezza a 5 due volte a settimana faccio yoga un'ora ti serve? sì 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 a rilassarmi e soprattutto adesso sto facendo delle tecniche di concentrazione poi quando ho yoga dalle 6 e mezza alle 9 e mezza a scuola e alle 10 proprio crollo nel letto tempo di mangiare e quando non ho yoga palestra dalle 7 alle 9 e mezza a scuola beh insomma devo dire che alla faccia alla faccia complimenti veramente è una vita immolata per alcuni può sembrare una vita adorata ma sono tanti veramente tanti tanti sacrifici qual è il tuo pregio cioè perché il tuo fidanzato si è innamorato di te? bisogna chiederlo a lui però forse tu hai una mezza idea affari suoi no perché penso di essere una ragazza molto semplice quindi forse questo penso per questo il tuo difetto? sono troppo ordinata per lui testarda e non ascolto nessuno come tutte le donne sei molto competitiva? sì 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 in tutto infatti molto spesso mi dice Alice non è una gara Alice non è una gara tutto non è una gara però insomma siamo quasi alla fine quest'Italia perché ti piace nonostante questo periodo difficilissimo trasmettiamo un messaggio positivo alla gente a casa ormai ogni telegiornale che guardiamo tutti quanti ci mettiamo le mani nei capelli sono solo notizie brutte perché invece dobbiamo sorridere ogni tanto ancora la vita è a questa bellissima Italia? beh perché nonostante i problemi le difficoltà in un modo o nell'altro sappiamo guardare avanti sappiamo passare oltre insomma con una risata con cose semplici comunque poi soprattutto io parlo sempre prendo sempre come esempio il Friuli la mia terra però in generale tutti gli italiani hanno questa caratteristica se tenevo a approfittare di te per trasmettere un messaggio di positività perché tu sei un esempio di positività del nostro Friuli Operaio che arriva noi ti auguriamo di scalare ancora tante posizioni facciamo tutto il tifo per te e ti prenotiamo quando torni da queste parti Campo Formido ormai l'ha memorizzato e vieni a trovarci magari con la medaglia la prossima volta sì va bene oro naturalmente assolutamente va bene sicuramente ci sarò in bocca al lupo è veramente tanta tanta fortuna come ci dà? vi date 5 anche voi? no solo in bocca al lupo non facciamo niente a 5 bocca al lupo complimenti Alice Mizzau orgoglio del Friuli